Continuano gli incontri regionali per tentare di risolvere i tanti problemi esistenti nei collegamenti ferroviari del Piemonte sudorientale che toccano quindi le province di Alessandria ed Asti. Alla fine della settimana scorsa c'è stata un'assemblea degli enti che fanno parte di questo bacino sud-est del trasporto pubblico locale piemontese per pianificare il prossimo piano triennale dei trasporti da proporre all'Agenzia della Mobilità Piemontese. Si intende il programma 2022-2024. Se non si avranno risposte entro breve tempo a quelle che sono le problematiche dei trasporti è stato raggiunto un accordo per intraprendere nuove azioni più decise ed incisive affinché le istanze del territorio vengano finalmente risolte. E' stato chiesto anche a supporto uno studio per la soluzione delle criticità evidenziate alla Fondazione Slala che si avvale del supporto dell'Università del Piemonte Orientale. A questo proposito è stato già predisposto un approfondito progetto di revisione della programmazione del sistema sull'asse Torino-Asti-Alessandria-Milano che prevede tra l'altro la realizzazione di un collegamento diretto tra Torino e Milano attraverso Asti e Alessandria. La possibilità quindi di raggiungere il capoluogo milanese da Alessandria in un'ora nonché il collegamento con il terzo valico via Tortona. Ricordiamo che la linea Asti-Alessandria-Milano è già stata oggetto di una raccolta firme. Durante l'assemblea è poi stata sottolineata la necessità di risolvere al più presto anche altri annosi problemi del pendolarismo per esempio quello tra Asti, Aquiterme, Ovada e Genova. Negli ultimi anni i collegamenti ferroviari soprattutto con i paesi più piccoli hanno avuto numerose linee ferroviarie sospese e nonostante le permesse di essere riattivate non hanno ricevuto gli effetti desiderati. Si parla di ritardi nella riattivazione della linea ferroviaria Casale-Mortara che penalizza pure la zona di Valenza e ancora Alessandria-Ovada e inoltre è stata segnalata anche un'offerta di trasporto nei confronti dell'utenza turistica che è assolutamente deficitaria in particolare nei giorni festivi. Da segnalare ancora che non ha ricevuto risposta alle numerose richieste dell'assemblea di Bacino di istituire una sede decentrata degli uffici dell'Agenzia di Torino.